Abbiamo iniziato a fare questo olio un po' per passione, un po' per curiosità. Poi man mano che passavano gli anni e la produzione diventava sempre di ottima qualità, abbiamo migliorato i nostri prodotti. Siamo partiti da un piccolo esperimento, nel senso che non si sapeva bene cosa si faceva in quei tempi e che cosa serviva. Poi con le varie documentazioni, i vari rapporti che abbiamo avuto con gli enti, abbiamo capito che veramente stavamo facendo un buon prodotto. Allora, l'olio di lentisco si conosce sin dall'antichità, se ne sono trovate tracce nella regione unragica, se ne sono trovate tracce anche a Pompei gli scavi. Attualmente lo stiamo cercando di riproporlo sia come insaporitori di piatti da cucina, perché come condimento non abbiamo più questi gusti molto forti, e sia come un prodotto cosmetico. Ricordiamoci che l'olio di lentisco ha delle proprietà benefiche sulla pelle per diverse cose, dalle varie scottature che possono insorgere, all'acne giovanile, tutto ciò che riguarda la sfera della cute. Buonissima impressione, i contatti che ho avuto ieri sono stati molto buoni. Speriamo che chi semina bene raccolga anche. Speriamo che chi semina bene raccolta anche.